Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malatti di sport. Oggi l'appuntamento con la NBA è doppio, abbiamo parlato prima, vi ho parlato prima nell'altro video della sfida di New York che ha chiuso la serie contro Cleveland, qui parliamo invece di quella che è la serie più bella di questo primo turno di playoff, ovvero Sacramento Golden State. Sacramento avanti 2 a 0, ha vinto le sue due partite in casa, Golden State ha risposto vincendo le sue due, 2 a 2, gara 5 a Sacramento, i Golden State sono tornati, i Golden State sono ancora loro, sono i campioni, questa è la serie più bella e hanno vinto, hanno vinto 123 a 116 il punteggio finale e si portano avanti tra due nella serie, prima vittoria in trasferta, match point da giocare in casa per la formazione campione del mondo. Quello che è bello di questa serie è l'eterna sfida tra i campioni, gli anziani, tra virgolette, l'esperienza, la forza di essere già arrivati in cima al mondo contro l'agonismo, la voglia di vincere, la voglia di arrivare dei giovani, delle nuove, di una squadra come Sacramento, una squadra molto giovane, allenata benissimo da Mike Brown che ha meritatamente vinto il premio di allenatore dell'anno ed è stato bello vedere veramente in questa gara come i Golden State che avevano vinto in regular season solo 11 partite lontano da casa siano riusciti a giocare una gara di un'intensità assoluta nella quale ognuno dei giocatori ha saputo mettere al momento opportuno quello che serviva per portare a casa questa vittoria molto molto importante. La serie non è finita, credo che anche in gara 6 potrà essere molto molto divertente, bisognerà più che altro capire il contracolpo psicologico che ci può essere stato su Sacramento per aver perso questa gara nell'ambiente meraviglioso che c'era anche oggi. Sacramento ha dominato il primo quarto, 8 su 12 da 3 punti, record della franchigia, non sbagliavano mai, soprattutto Fox spettacolare, Murray tutti erano veramente in una forma totale però non sono riusciti a creare un grande disavanzo, hanno preso una decina di punti di vantaggio al massimo e Golden State invece è stata lì e nel secondo quarto ha ripreso in mano la gara, il dato più clamoroso è proprio questo sul tiro da 3 punti mentre ha fatto 8 su 12 Sacramento nel primo quarto ha chiuso a 10 su 34, vuol dire 2 su 22 nel resto della gara. Invece Golden State si è affidata mano a mano a diversi protagonisti come dicevo all'inizio, in particolare uno splendido Clay Thompson che da solo ha costruito il break con il quale Golden State si è portata in vantaggio e ha chiuso avanti il primo tempo e poi dopo nel secondo tempo è salito in cattedra Steph Curry che ha giocato una partita strepitosa, ha messo anche i canestri in finali decisivi, ha chiuso con 31 punti pur avendo fatto solo 2 su 10 da 3 punti ma illuminando il gioco con una grandissima mentalità vincente come al solito e poi il giocatore decisivo è stato Dremon Green, proprio lui che venne espulso in occasione di gara 2 dopo la reazione, la trattenuta che gli aveva fatto Sabonis ha giocato una partita meravigliosa anche offensiva, non soltanto difensiva dove è un vero drago, ha chiuso peraltro con 21 punti 8 su 10 un canestro anche alla Novitski assolutamente strepitoso con il suo classico tiro in allontanamento ed è stato veramente fantastico, è riuscito a rimanere anche relativamente tranquillo, l'arbitraggio mi è piaciuto molto Brothers, Lindsay e Tiderford che è un giovane arbitro particolarmente dotato, incosciente anche a mio avviso ancora delle volte perché butta dentro dei fischi veramente con grande carica, però credo che abbiano fatto veramente molto bene loro doveri in una partita tutt'altro che facile, certo è vero il metro sui falli tecnici giustamente nei playoff è un po' cambiato rispetto alla regola season perché sia Fox ne ha preso uno e avrebbe meritato anche un secondo tecnico sia Green in occasione dove non gli è stato fischiato un fallo a favore nettissimo in un contropiede è andato in giro un po' a lamentarsi con tutti gli arbitri che hanno preferito gestire invece di punire con il fallo tecnico Green è stato fantastico ma cosa dire dell'Unei che ha segnato 4 punti con 4 tiri ma ha preso 22 rimbalzi dominando il gioco sotto le planche poi però da notare anche Peyton che nel quarto quarto quando è entrato in campo ha fatto tutto quello che serviva canestri schiacciate, recuperi, è stato di un'intensità strepitosa così come Wiggins che nel finale ha fatto un altro dei canestri decisivi per allungare per quanto riguarda Sacramento mi è piaciuto Fox come sempre che ha giocato però anche un po' infortunato e nell'ultimo quarto non è più riuscito a essere protagonista, ottimo Monk invece che è venuto fuori proprio nel quarto quarto e ha guidato il tentativo di rimonta di Sacramento e poi come sempre intenso Sabonis che ha chiuso a 21 punti e 10 rimbalzi la sfida ora gara 6 abbiamo quindi a questo punto in questi playoff veramente belli 5 squadre già qualificate conosciamo già alcune partite anche a Est New York Miami mentre Philadelphia aspetta la vincente stanotte ci sarà gara 6 Boston all'occasione vincendo l'Atlanta di agguantare il passaggio del turno altrimenti si andrà a gara 7 a casa di Boston invece dall'altra parte sappiamo già una semifinale che sarà la bellissima Phoenix Denver Phoenix per l'altra semifinale che potrebbe essere un derby californiano perché se i Lakers chiuderanno la partita in gara 6 in casa eliminando Memphis riceveranno una squadra della California con il match point per Golden State playoff NBA molto molto belli molto divertenti grazie ragazzi domani l'appuntamento è con Atlanta Boston questo Sacramento Golden State se non l'avete vista ragazzi gustatevela perché è veramente bello ed è veramente ammirevole vedere questa squadra mitica questi Golden State Warriors che dopo una stagione tutt'altro che facile dopo aver rischiato anche di stare fuori dei playoff di dover fare il torneo del play in poi sono riusciti ad arrivare ai playoff e come sono in assetto veramente 28esima serie consecutiva con una vittoria in trasferta record NBA record di tutto squadra ammirevole da una parte davvero è fantastico vedere questo tentativo di questi campioni che cercano ancora una volta di andare a portare a casa un altro titolo grazie ragazzi iscrivetevi al canale un bacio alla prossima NBA appuntamento domani poi stasera anche una gara 2 di Eurolega ciao a tutti tanto basket sempre sul canale ciao un bacio